Signore colleghe, signori colleghi, con questa proposta di direttiva sul diritto d'autore nel mercato unico digitale, come sapete la Commissione sta proseguendo sulle linee guida indicate nel precedente regolamento riguardante l'ammodernamento delle regole dell'Unione Europea sul copyright. C'è stato già un parere del Comitato delle Regioni di cui il relatore è stato il collega Abram Avicius. Abbiamo notato come nel testo si sia raggiunto un buon equilibrio tra le posizioni delle varie parti interessate e come sapete non è una cosa semplice, i fornitori di servizi, gli intermediari, gli aventi diritto e i consumatori con effetti concreti. A livello locale, sia nel lavoro di stesura di questo parere, sia nelle osservazioni e anche in Commissione, abbiamo rilevato favorevolmente l'adeguamento di alcune eccezioni per fini didattici di ricerca e conservazione del patrimonio culturale. La Commissione in questo senso infatti fornisce strumenti ad istituti di ricerca, istruzione e cultura per migliorare la propria offerta educativa e culturale, rendendola più competitiva a livello internazionale. Questo è un tema molto caro agli enti locali e regionali. Sosteniamo con questo parere l'estensione delle licenze collettive per le opere fuori commercio, tra società di gestione dei diritti e istituzioni per la conservazione del patrimonio culturale. In merito agli emendamenti che proponiamo con questo parere alla Commissione, l'intenzione principale è quella di far risaltare nel testo il ruolo imprescindibile che hanno i creatori, senza le cui opere il mercato dell'intrattenimento e più in generale l'ambiente culturale europeo, non potrebbero esistere. Come esempio concreto proponiamo che gli Stati membri provvedano a che gli autori e gli artisti, interpreti o esecutori, ricevano perlomeno annualmente informazioni tempestive adeguate e sufficienti sullo sfruttamento delle loro opere. Queste condizioni, colleghe e colleghi, sono facilmente raggiungibili perché oggi disponiamo degli strumenti tecnologici adeguati. Inoltre, a seguito dell'incontro con gli stakeholders, abbiamo notato come il tema di maggiore urgenza per i rappresentanti della filiera dell'industria creativa sia il cosiddetto value gap, cioè lo squilibrio tra il valore generato dai fornitori di servizio e il ritorno economico per i creatori delle opere utilizzate da tali servizi. A questo proposito, accogliamo favorevolmente la proposta della Commissione che obbliga i grandi fornitori di servizi ad ottenere licenze dai titolari dei diritti. Infine, abbiamo raccolto le istanze del settore audiovisivo affinché la Commissione incoraggi i fornitori di servizi e organizzazioni nella catena del valore a sviluppare congiuntamente formati standard. In termini di analisi politica, cari colleghi e cari colleghi, apprezziamo l'intento della Commissione di ampliare la disponibilità del catalogo audiovisuale europeo che oggi soffre maledettamente di competitività rispetto, per esempio, a quello soprattutto americano. Avremmo voluto, come avviene spesso in tanti altri pareri, che si esplicitasse di più e meglio il carattere locale e regionale di queste opere. In particolare, è utile rilevare che senza le frequenti collaborazioni tra artisti, imprenditori, amministrazioni locali che offrono sovvenzioni culturali, per esempio, molte di queste opere non vedrebbero la luce. Le regole del diritto d'autore devono adeguarsi alla digitalizzazione, questo è vero, ma non devono farsi condizionare completamente. Il nostro ruolo di rappresentanti locali e regionali è anche quello di tutelare il nostro patrimonio. L'Europa è titolare di un patrimonio culturale enorme e i suoi creatori rappresentano una delle ricchezze più importanti di cui disponiamo. Il mercato unico digitale deve essere un'occasione di sviluppo e non di crisi. Con questo parere crediamo di affermare questo principio.